Oggi con voi voglio parlare dei NAS No, oh, che c'entrano quei NAS? Non quei NAS, questi NAS, questi qua, i Network Attached System Questi, una pronuncia terribile, terribile Il NAS è un dispositivo in grado di gestire più hard disk e quindi ci dà la possibilità a noi di inserire dei dati All'interno della nostra rete e quindi reperirli sì da ogni nostro singolo computer ma anche avere delle copie di backup e quant'altro Insomma è uno strumento di archiviazione di massa inserito nella nostra rete domestica e potremmo averci accesso da qualunque dispositivo connesso alla nostra rete domestica Detta così è molto semplicistica però fondamentalmente è quello che fanno perché qua dentro alla fine non c'è nient'altro che un computer a tutti gli effetti Con processore, RAM, sistema operativo, ingressi di rete, input-output e appunto dei dischi rigidi dove vengono salvati i file E io direi di partire proprio da questa prima parte per parlarvi correttamente dei NAS In commercio ci sono diversi NAS che possono ospitare diversi dischi, si parte da un disco solo fino ad arrivare a 10 dischi ad esempio E non è solo una questione di spazio perché quasi tutti i NAS, anzi tutti i NAS mi verrebbe da dire Tranne quelli a single obey quindi che possono ospitare un solo hard disk Possono effettuare un raid tra i vari dischi No, non questo tipo di raid Il raid informatico dei dischi serve per non perdere dati o per velocizzare i dischi Ad esempio un raid 0 servirà praticamente per far lavorare i due dischi contemporaneamente Quindi un singolo dato verrà diviso su due dischi o più dischi In modo tale che durante la scrittura e la lettura non un singolo disco deve andare a prendere l'intera porzione di file Ma appunto tutti i dischi contribuiscono in piccola parte a ricostruire il dato in fase di scrittura o di lettura Questo ci permette di mantenere ad esempio se abbiamo 10 dischi da un tera l'uno Tutti ai 10 tera di spazio ma è poco sicuro perché qualora si dovesse rompere anche soltanto uno di questi 10 dischi Quindi addio dati E credo che in un NAS che fondamentalmente viene utilizzato proprio per salvaguardare i nostri file Non è proprio una delle soluzioni migliori Ed è proprio per questo che vi sconsiglio a priori un NAS a disco singolo Sicuramente molto più interessante ai fini dell'utilità del NAS stesso è il raid 1 Ovvero con un minimo di due dischi ci permette di effettuare una copia dei dati Uno su ogni disco quindi se noi dobbiamo scrivere AB in questo caso il disco 1 scriverà AB Il disco 2 scriverà AB È vero che così ci giocheremo metà dello spazio disponibile nel NAS Quindi se avremo 4 tera effettivamente noi ne utilizzeremo solo due Ma è anche vero che in qualunque momento si dovesse rompere uno dei due dischi Ci basterà sfilarne uno, infilare l'altro e non avremo perso la benché minima quantità di dati Quindi a discapito dello spazio disponibile abbiamo una sicurezza maggiore Almeno che non siamo degli sfigati cosmici che ci si sbrasano due harddischi in una volta Allora lì effettivamente c'è ben poco da fare se non andare all'urde perché veramente due dischi in una botta non si può sentire Sicuramente il miglior bilanciamento tra i raid si ha col raid 5 Soltanto che per ottenerlo bisogna avere minimo tre dischi Quindi dovremo acquistare un NAS che possa ospitare appunto un minimo di tre dischi o quattro dischi Che dir si voglia Questo permetterà di avere su tre dischi due che archiviano e uno che lo perdiamo sempre per una questione di sicurezza dei dati In realtà l'ho spiegata veramente molto male Diciamo che su tre dischi vengono generati dei file detti di parità In modo tale che qualora uno dei dischi si dovesse danneggiare attraverso questi file detti di parità Il sistema può andare a ricostruire appunto le informazioni che erano presenti sul disco Solitamente questa funzione, questi dati paritari occupano un terzo dello spazio totale Quindi per quello che dicevo che un disco lo perdiamo Ma in realtà non è proprio fisicamente un disco come nei raid precedenti Vengono utilizzati tutti e tre Comunque fatto sta che così credo di avervela spiegato un pochettino meglio Torniamo al video Effettivamente andremo a perdere molto meno spazio Perché perderemo soltanto un terzo dello spazio in questo caso Però effettivamente a livello di costi potrebbe essere leggermente superiore Anche se ripeto sicuramente la scelta migliore Io personalmente per casa ho scelto questo NAS della Synology E1-220J E' un modello che in realtà è un base di gamma Perché stiamo parlando di un dispositivo con pochissima RAM Solo 512 Un processore entry level Soltanto due dischi Non ha neanche caddy per l'estrazione Ma ogni volta dovremo andare noi a smontare i dischi Ma questo lo vedremo più avanti Quindi è un modello veramente base di gamma Però ho scelto Synology Perché secondo me ha il miglior sistema operativo attualmente sul mercato Perché seppur è vero che è importantissimo avere un hardware prestante Altrettanto importante in questi macchinigegni è il sistema operativo Anzi mi sento da dire che credo sia uno degli elementi più importanti Il sistema operativo del NAS Prima di parlarvi della parte cicciosa Ovvero il software Mi piacerebbe fermarmi due secondi sull'hardware Così che possiate anche avere dei cenni qualcosa Anche per una scelta di un vostro NAS personale Come vi ho detto questo è un base di gamma E quindi ha un poca RAM Poco processore Due soli ebay Ma per quanto mi riguarda Va più che bene Perché io ne faccio un utilizzo solo ed esclusivamente Per fare backup dei dati Sia in locale Che in cloud Quindi a cosa serve avere un hardware migliore in un NAS? Banalmente serve ad avere prestazioni migliori Quando andremo a caricare all'interno del dispositivo Casomai migliaia di dati Di foto ad esempio Mi viene da dire Sarà molto più veloce nel fare l'indicizzazione dei file all'interno del disco Oppure mi viene da dire che Con un hardware migliore Sarà possibile dare accesso a più utenti contemporaneamente All'interno del NAS Anche ad esempio guardando dei flussi video Perché no? In DLNA Se avete un hardware migliore Potrete riprodurre anche file in 4K A 30 frame Mentre casomai con questo Oltre al 1080p Non possiamo andare Per quanto riguarda la riproduzione Senza tenere conto che in molti NAS Si ha la possibilità di installare delle macchine virtuali Nel mio caso sarebbe praticamente impossibile Tant'è che il sistema operativo Non me lo permetterebbe neanche Però con solo 512 MB di RAM Capite bene che sarebbe impossibile Però avendo dei dispositivi migliori Si possono installare delle macchine virtuali E per la produttività In alcuni casi specifici Potrebbe fare la differenza di acquisto Quindi come sempre Nel campo dell'informatica Badate bene alle vostre esigenze E bilanciate il vostro acquisto In base alla disponibilità economica Se ad esempio siete delle persone Che utilizzerebbero il NAS Soltanto per archiviare dei dati in rete locale O in cloud che sia Dallo smartphone Piuttosto che vi serve un luogo per salvare documenti Avere sempre delle copie Importanti di documenti importanti Allora a quel punto ve ne farete ben poco della potenza Perché tanto effettivamente Quello che vi serve è lo spazio In questo caso Quindi opterei per prendere un modello base Però con dei dischi più capienti Se invece avete intenzione Di tirare fuori un vero e proprio centro multimediale Quindi avere questo NAS Che vi trasmetta alla TV Tramite DLNA Dei flussi video in 4K Oppure sapete che avete una piccola azienda Che quindi ai dati Devono accedere più persone Contemporaneamente Lavorare continuamente Quindi c'è un grande flusso Di lavoro su questo NAS Ecco a quel punto vi dico Sì dovete acquistare qualcosa Di sicuramente più performante Rispetto a un entry level Ma ripeto è sempre in base alle vostre esigenze In ambito domestico Nel 99,9% dei casi Qualcosa del genere Vi basta e avanza pure E sia chiaro Il NAS non è uno strumento difficilissimo da usare O meglio È uno strumento bivalente Nel senso che Se ne vogliamo fare un utilizzo tranquillo Senza pretese Senza approfondire troppo le cose Qualsiasi utente Senza grandissime competenze informatiche Può tranquillamente utilizzarlo Perché basterà installarlo E l'installazione È veramente molto semplice Basta installare un cavo di rete Perché ovviamente non hai il wifi E l'alimentazione E il dispositivo è collegato Ovviamente il cavo di rete Va collegato al modem Certo se poi vogliamo approfondire di più le cose Anche per gli smanettoni C'è carne al fuoco E neanche poca Perché come vi dicevo Il punto di forza dei NAS E il sistema operativo E per quanto mi riguarda Quello di Synology È quello dove io mi trovo meglio È quello che secondo me Riesce a bilanciare molto bene le due cose Senza eccedere dal lato Nerdone Ma neanche dal lato Utente che non sa leggere neanche le istruzioni Come vi dicevo prima Sicuramente uno dei punti di forza Dei NAS Synology È il sistema operativo È il software Difatti dopo l'installazione La configurazione sarà semplicissima E verremo guidati passo passo Anche soltanto cercare il NAS nella rete È semplificato Perché basterà aprire il browser Scrivere find.synology.com E automaticamente verrà rilevato il NAS E ci verrà aperta la configurazione Per poter installare il sistema operativo L'installazione del sistema operativo Non è niente di straordinario Basterà seguire le indicazioni Che ci vengono date a schermo Creare i vari account E il gioco è fatto E saremo subito pronti A poter utilizzare il nostro NAS Insomma semplificato all'ennesima potenza Come vi dicevo prima Questi NAS hanno la possibilità Di essere controllati anche da remoto Sia per la gestione dei file Sia per utilizzarli Come dei veri e propri centri cloud Questa cosa solitamente È abbastanza macchinosa Nella maggior parte dei NAS Bisogna comunque avere un IP statico Bisogna creare un DNS Avere un dominio Insomma non è proprio tra le cose più semplici Si fa ma bisogna avere delle conoscenze Piuttosto approfondite Dell'ambito delle telecomunicazioni In questo caso invece I NAS Synology ci forniscono il Quick Connect Ovvero un indirizzo Che tra le altre cose è testuale Sceglieremo noi Al quale poterci connettere Da qualunque parte del mondo Senza bisogno di stare lì A configurare protocolli di sicurezza SSL SSL O piuttosto che domini Di DNS Chi più ne ha più ne metta Un semplice indirizzo E ti ritrovi all'interno del tuo NAS In qualunque posto tu ti trovi Questo che vedete alle mie spalle È il sistema operativo del NAS Un sistema operativo che sarà personalizzabile Non solo per quanto riguarda la configurazione Ma anche per quanto riguarda la scelta software Difatti c'è il centro pacchetti Che ci servirà per poter scaricare Delle vere e proprie applicazioni Da poter raggiungere al nostro NAS Queste ultime sono delle più disparate Abbiamo le classiche per il cloud Come ad esempio Drive Foto Moment Che fondamentalmente servono per tenere sincronizzati i dati Dai nostri vari dispositivi Senza bisogno di un nostro intervento Come ad esempio da uno smartphone Io qui in qualunque momento posso andare su Memories Che è appunto l'app di controllo delle foto Dove ho sincronizzato tutte le foto dello smartphone Col mio NAS Va che bei mia nena letti Come cazzo parli Eh? Visto che bellini Ed è una funzione che va sostituire a tutti gli effetti Google Photo ad esempio O Google Drive Perché oltre appunto a foto Abbiamo anche Drive Dove all'interno ci saranno tutti i nostri file Che appunto andremo a sincronizzare O noi stessi andremo a salvare Quindi lo utilizzeremo come un vero e proprio cloud Oltretutto Moment Si comporta letteralmente come Google Photo Ci dividerà le foto per anno Per mese Oppure addirittura facendo dei tag sulle foto Ottimo Perfetto C'è anche l'app Calendari Per sincronizzare il calendario Per gli appuntamenti L'agenda Il promemoria Insomma funzionerà a 360 gradi Come funziona un qualunque servizio di cloud A pagamento Che possa essere Google Apple Eccetera 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 Ci sono davvero tanti pacchetti Come ad esempio quello Office Che ci permette di creare o editare file di testo Fogli di calcolo Presentazione e quant'altro In cloud Direttamente dentro al NAS In modo tale che possiamo modificarlo in qualunque momento E avere accesso a questo dato in qualsivoglia momento Anche modificandolo Oppure ci sono roba un pochettino più avanzata Come possibilità di installare dei server PHP Yomla Oppure Wordpress ad esempio Che va fortissimo per i blog Insomma è veramente qualcosa che Se uno si mette lì E ha voglia di approfondire Può tirare fuori la qualunque Forse a quel punto l'unica limitazione che mi viene da dire È la nostra banda Perché se ovviamente iniziamo a tirare dentro Un Che ne so Un sito in Yomla Oppure un blog in Wordpress Ecco Forse la nostra connessione potrebbe risentirne un po' Però in alcuni ambienti Soprattutto in ambienti Mi viene in mente di piccole e medie imprese Potrebbe avere senso Potrebbe avere una marcia in più Insomma è uno strumento veramente a 360 gradi Ovviamente si possono creare più utenti con diversi privilegi Dall'amministratore all'ospite Tra altre cose tutti i file che abbiamo condiviso in Drive O in foto O comunque all'interno del NAS Sarà possibile condividerli tramite link E a quel link saremo noi a dire Che privilegi dare a chi ha accesso Dall'utente non registrato Che potrà avere pieno accesso a quel file All'utente che deve essere per forza sotto invito O a chi deve essere per forza amministratore Insomma anche per condividere poi la roba che c'è dentro Funziona a tutti gli effetti come Google Drive Un'altra cosa estremamente interessante È il Cloud Sync Ovvero questo NAS È in grado di sincronizzarsi con i principali servizi di cloud terze parti Google Drive Apple Mega Dropbox Chi più ne ha più ne metta Potremmo tenere sotto controllo Tutti i file sparsi nella nuova Con una grossa differenza Non ci dimentichiamo che avere un abbonamento cloud Vuol dire anche affidare i nostri file a terze parti Vuol dire anche che noi non sappiamo fisicamente dove sono i nostri file Mentre invece con il NAS In qualunque momento Noi sappiamo che il nostro hard disk è lì I nostri dati sono lì E possiamo avere un accesso fisico A ciò che abbiamo archiviato nel tempo So che qualcuno di voi si sta domandando Ma scusa senza il bisogno di acquistare un NAS Non si può fare tutto questo con un PC Vi dirò Sì si possono creare dei NAS anche con un PC Si possono creare dei NAS con un Raspberry ad esempio Ma hanno tutti dei punti sfavorevoli piuttosto importanti secondo me Il primo Quello con Raspberry È che bisogna essere un utente abbastanza avanzato per poter arrivare E la stabilità non è sicuramente delle migliori Anzi direi più l'affidabilità non è delle migliori Sono soluzioni spesso amatoriali Sono esercizi di stile per chi smanetta Mentre invece per quanto riguarda il PC Oltre all'ingombro ci sono i consumi Un NAS ha dei consumi decisamente più bassi rispetto a un PC Ed essendo uno strumento acceso e collegato 24 ore su 24 7 giorni su 7 Capite che anche l'aspetto del consumo è piuttosto importante Per questo che un NAS è sempre preferibile a un PC Per quanto riguarda questo utilizzo Le cose da dire su questi NAS sarebbero tantissime E sicuramente in futuro farò degli altri video Con argomenti dedicati e funzioni particolari dei NAS Ma per oggi direi di fermarci qua Questo voleva essere un video per farvi conoscere Il mondo dei NAS Il mondo di Synology E mostrarvi quali possono essere le loro potenzialità E capire se effettivamente è uno strumento adatta a voi Quindi a me non mi resta che ringraziarvi Per aver visto questo video Spero vi sia tornato utile Se avete dei dubbi Io nei commenti cercherò di rispondere a tutti In base alle mie conoscenze E vi ricordo anche che potete unirvi al gruppo Telegram Dove possiamo chiacchierare tranquillamente con me E con gli altri membri della community Anche il server Discord Dove spesso mi trovate lì a chiacchierare Anche lì c'è una sezione helpdesk Che può tornarvi utile per comunicare con me Se avete dei dubbi o qualcosa da dirmi Io vi ringrazio ancora di cuore E noi ci vediamo con un prossimo video Grazie a tutti